Una finestra sulla ricostruzione si è aperta ieri a Camerino con la visita del commissario straordinario Giovanni Legnini, che ha colto l'invito del sindaco Sandro Sborgia nel giorno del riavvio dei cantieri in tutta Italia, dopo la sospensione delle attività a causa dell'emergenza Covid-19. È stato Legnini a dare avvio alla ripartenza dei cantieri nel cuore del cratere, sottolineando la necessità di cambiare passo e velocizzare affinché si possa davvero toccare con mano la ricostruzione in un intero territorio colpito dal sisma del 2016. Sarà un percorso lungo ma non può essere rimandato ancora e tutti gli attori coinvolti in questo processo non devono più tergiversare, ha dichiarato. Io come commissario posso dare delle linee guida, ma poi tocca anche ad altri protagonisti dare la spinta necessaria affinché si possano realizzare. Sarà costituito un tavolo di lavoro permanente tra l'ufficio del commissario straordinario alla ricostruzione e le istituzioni di Camerino, sindaco, rettore e vescovo. Insieme sarà redatto un piano per la ricostruzione della città, a partire dalla pianificazione di un modello di sviluppo economico per quest'area.